Amici di Weekend Dance, lo spettacolo continua, ci hanno invitato questa sera in un posto fantastico dove si mangia bene la pizza al Corso Italia IV, il locale si chiama KV, proprio così, guardate il servizio Il tuo nome? Francesco, a questo tavolo cosa si mangia stasera? Pizza integrale Pizza integrale, quindi pochi grassi, non fa male, qua facciamo la dieta Quindi tutte e due pizza integrale? Sì, ma dei due chi soffre di più? Tu o lei? Lei, 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 perché anche lei deve seguire il tuo gusto gastronomico Vabbè, mi seguo perché mi ama Scommetto che questa sera mangerai pizza integrale Pizza integrale, mi trovo Perché questa scelta? Perché ha deciso lui Come si sta qui al KV, ti trovi bene? Si sta bene, si sta bene Magari questo sabato pizza integrale, la prossima settimana? Pizza normale KV vi piace come pizzeria? Molto, non è la prima volta che veniamo infatti Siete frequentatori? Abbastanza, sì Questa sera leggeri? Molto, sì E' un altipasto questo? Diciamo Prima cosa avete consumato? Lascia perdere Diciamolo per quelli che ci guardano da casa No, mi ho preso delle bruschette, un po' di fritto e una pizza Va bene così allora Classico Buona serata Grazie Finalmente il piacere di rincontrare Valentino Libro Campione del mondo 2014 Come stai? Il piacere è tutto mio Buonasera Ti vedevamo all'opera prima con tutte le tante varietà di pizze qui da KV a Quarto Si assolutamente, è dura Il locale è pieno, bisogna fare delle consegne e tanti asporti Insomma bisogna essere attenti al banco nel lavorare e fare le pizze Verificare tutti i clienti, quelli da asporto, poi la ordino, la portano a casa ma anche quelli che sono qui a consumarlo al tavolo Assolutamente sì, bisogna fare il massimo dell'attenzione Ma è vero quando arrivano i clienti qua e dicono che vuoi? E voi subito gli date la pizza che lui vuole Noi il motivo per cui abbiamo messo questo nome è il signor Catania Che vuole significare, cosa volete? Noi cerchiamo di darvelo Facciamo il possibile per darvelo Quanti tipi di pizze, mediamente il sabato sera, tu sforni qui da? Noi sforniamo 400-450 pizza, volte 500 Ma sono tipo 40-50 tipi di pizze diversi Ad esempio facciamo una classifica di pizza, quella più richiesta al KV? La bufalina, la bufalina, come è fatta questa bufalina? Diciamo che la stiamo vendendo adesso col piennolo Che praticamente è un pomodoro e il piennolo del Vesuvio, un presidio slow food Gli mettiamo della mozzarella di bufala campana e l'olio extravergine per il top delle pizze Amici che ci guardate da Napoli, dalla Campania, venite qui a quarto al Corso Italia Da KV e dite voglio la bufalina col piennolo Per quelli di Milano il piennolo è un pomodorino che si trova solo al Vesuvio Bravissimo E' una conserva Io ti lascio al tuo lavoro e ci vedremo prossimamente con weekend E io ti aspetto Possiamo dire che a questo tavolo la dieta non esiste? No Voi venite qui in pizzeria e dite che vuoi? E ci pensano loro Bravo Cosa avete mangiato? Carne, filetto di manzo alla brace Poi vabbè insalata, un affettato come antipasto e una bruschetta Allora siete stati benissimi Sì alla grande, ma che vuoi garanzia? Allora lo consigliereste a tutte le persone che ci stanno guardando da casa? Certo che lo consiglio Magari offri tu No, questo no Bistecca ai ferri Fettati Bruschette E l'insalata Ma come si governano bene il sabato sera? Quindi mangiate E domani che domenica? E dopo questo al riposo Si va dalla suocera domani Esatto Come hai mangiato? Bene? Benissimo Antonello Catania Benvenuto su Weekend Dance Salve, benvenuti a voi Questo è un posto magico Frequentato da tantissima gente Il sabato sera già dalle 20 E qui bisogna prenotare per mangiare una buona pizza La puoi anche portare a casa però Si può anche mangiare un primo, un secondo? Assolutamente sì Offriamo una vasta Diciamo Un vasto assortimento di pietanze Però il nostro core business E sicuramente la pizza Dove sapete tutti Abbiamo il campione del mondo Il maradona della pizza Il maradona della pizza Valentino Libro Ragazzo eccezionale che veramente fa questo lavoro con molta passione e amore Tanta dedizione E' un ragazzo simpatico e molto intelligente Campione mondiale di pizzaiole 2014 Si sta preparando anche per vissare il titolo quest'anno, nel 2015 Si Diciamo che lui ci teneva a conquistare il campionato del mondo del 2014 Poi il 2015 può diventare relativo L'importante è che l'ha conquistato già Infatti Quindi noi prima che Valentino vincesse il titolo sapevamo della sua grandissima abilità in questo settore Una persona molto preparata e questo è un posto veramente bello Dove c'è tanto calore, c'è tanta famiglia, tanti giovani, coppie di fidanzati Dove il sabato sera uno dice andiamo al corsi dalle a quarto da Che vuo Proprio il titolo di Spire nel dire buonasera Che vuo e tu dici la pizza oppure qualche altra cosa Esatto, è stato così, è nato questo nome dal nostro dialetto napoletano Chiaramente è stato aggiunto una K Però era una cosa simpatica Ci tengo anche a precisare che il locale è frequentato da belle persone E tutto lo staff è di alto profilo Ragazzi in gamba Che veramente coccolano i nostri clienti E sono d'accordo con te perché l'abbiamo visto anche noi in prima persona Poi per gli amanti del calcio O che mai il sabato o la domenica giocassi il Napoli o altre squadre Ci sono anche delle tv 50 pollici per vedere anche la partita gustando una buona pizza Sì sì, in effetti offriamo a 360 gradi tutto quello che può servire per trascorrere una bella serata Vogliamo dare dei contatti telefonici Antonello Se qualcuno volesse telefonare oppure ordinare delle pizze anche telefonicamente Assolutamente sì Il numero di telefono è 081876 0364 E poi abbiamo l'indirizzo nostro di Facebook che è KV È il caso di dire amici Ci troviamo al Corso Italia a quarto Quando venite e bussate dite KV Assolutamente sì Che voi gli date? A me A me A me